Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è San Ciro, uno dei grandi sandri della festa a Pottici, Napoli. San Ciro ha fatto vecchi miracoli, ragazzi, è un bellissimo sandro, auguro a tutti quelli che portano Ciro, Ciro la stessa. Che volevo dire? Volevo raccontare una storia, che mia mamma mi ha raccontato questa storia, che mia zia abitava a Torino, da vecchi anni fa, è stato dentro questa palazzina e all'improvviso bussavano il citofono. Lei si è affacciata a Baccone a vedere questa bella signora tutta vestita, ha preso il citofono e sfince il bussavano e l'aperto. All'improvviso è salita questa signora, ha bussato la porta, mia zia ha aperto la porta e ha visto questa zingara, era una zingara con il coltello in mano che la voleva uccidere. Lei era incinta, a tempo a tempo ha preso e ha chiudito questa porta. Poi è così, è finito. Poi lei si è fatta sedia, si è andata a dormire. Dentro il sonno ha raccontato questa storia, ha visto San Ciro se è sonnato, che ha detto dentro il cassetto c'è la mia fotografia. Lei si è svegliata la mattina, ha aperto il cassetto, ha detto come ha visto questa fotografia. E questo è il miracolo di San Ciro. San Ciro l'ha aiutata, ha chiuso la porta a questo, perché lei era incinta. E questa è la storia, va bene. Io vi ringrazio, ciao a tutti.